ci raccontate le vostre impressioni e soprattutto tanti tanti bucini primati social e soci di questa fondazione importantissima no io sono stato governatore sette anni fino al 28 novembre del 2021 poi adesso per tre anni devo rimanere a casa come è persa tutto e poi spero di rientrare assolutamente la rivedremo più questa sorrento che tanto vi ha amato e che tanto ci manca io amo il sorrento, il sorrento rimane nel cuore e quando posso ci saranno sempre volentieri grazie